Il numero dei contagi aumenta di giorno in giorno in Terriblea e cresce anche il numero di ricoverati. Una situazione che fa temere probabili chiusure o restrizioni. A preoccupare adesso sono i giovani, soprattutto gli esintomatici che ancora non si sono presentati per la vaccinazione. Anche oggi fortunatamente ne sono morto per Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore, ma si contano 51 contagi in più. I positivi sono infatti 1.107, di cui 1.068 in isolamento domiciliare e 33 ricoverati. I dati per comune vedono Acate con 10 casi, Chiara Montegulfi 19, Comiso 97, Giarratana 7, Ispica 15, Modico 82, Monte Rosso Almo 1, Pozzallo 105, Ragusa 208, Santa Croce Camerina 130, Scicli 84 e Vittoria 310. La situazione resta comunque sotto controllo, ma occorre fare attenzione e rispettare le norme anticontagio ormai presenti nella nostra vita da quasi due anni. Quale distanziamento, mascherine, cose che purtroppo sembrano difficili da rispettare dato il caldo e le serate di Movida, ma che possono alleggerire i numeri di contagio. Intanto domani al via la vaccinazione straordinaria Ragusa, a comunicarlo il sindaco Ibleo, Peppe Cassì, sui social, ricordando ancora una volta l'importanza di vaccinarsi come strumento per ridurre i contagi. Anche il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, torna a preoccuparsi per l'evoluzione del contagio e della poca voglia di vaccinarsi. Ieri mattina si è tenuta la riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile ed è stato deciso che saranno potenziati i controlli e le sanzioni contro i trasgressori. Nel 2020 i verbali contro i trasgressori furono 12 in estate, nel 2021 sono 76. In ragione delle nuove norme per accedere ai siti culturali del comune, quindi anche nella sede centrale, sarà necessario dotarsi di Green Pass. L'azienda sanitaria provinciale di Ragusa proseguirà con il calendario dei drive-in aperti in provincia alla luce dell'aumento dei positivi. I test rapidi sono destinate alle persone che non si sono ancora vaccinate e fino ad un massimo di 250 tamponi per ogni postazione aperta.